Notizia di pochi minuti fa dal Galatasaray, Mauro Icardi è grave. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante Iscriviti e di lasciare un Mi piace. Le festività natalizie di Mauro Icardi sembravano un quadro idilliaco, tra allegria e celebrazioni in famiglia. Tuttavia, dietro quel sorriso si cela ora un dramma più oscuro del previsto. Il Galatasaray ha rivelato che l'argentino ha riportato fratture facciali durante l'appassionante sfida contro il Fenerbace. La partita è stata teatro di uno scontro infuocato tra Icardi e l'ex compagno di squadra Edin Dzeko. Il club turco ha ora ufficializzato la gravità dell'infortunio, annunciando che il giocatore sarà lontano dal campo per un periodo indefinito. Il trauma ha provocato non solo danni visibili, ma anche fratture interne che richiederanno approfonditi esami medici. Il comunicato ufficiale del Galatasaray ha svelato che Icardi si sottoporrà a test oftalmologici, otorinolaringoiatrici e di chirurgia plastica per valutare l'entità del danno. Solo il 20 gennaio, dopo circa 20 giorni dal trauma, si avranno notizie concrete sui tempi di recupero, ancora incerti. Le speranze di un ritorno rapido in campo sono legate alla possibilità che Icardi giochi indossando una mascherina protettiva, simile a quella di Victor Osiman dopo un incidente con Milan Skriniar. Il destino di Icardi è avvolto nel mistero, e solo il tempo dirà se riuscirà a superare questo infortunio e a tornare sui campi da gioco.